L'amelito portosalvo del nord è così Desio stata definita e non ci sono parole più chiare. A Desio l'andrangheta significa soprattutto due nomi, Yamonte e Moscato. Natale Moscato classe 1944, imprenditore d'Ile, consigliere comunale del PSI per molti anni e anche assessore all'urbanistica. Venne arrestato nel 1993 ma lui e gli altri della famiglia uscirono a testa alta dai tribunali per non aver commesso il fatto, cioè associazione mafiosa. Il nome dei fratelli Moscato è rientrato di recente in un rapporto dell'antimafia e si è tornato a parlare di rapporti tra andrangheta e politica con l'arresto del boss del traffico di rifiuti Fortunato Stellitano. Era l'anno scorso. L'operazione ha portato uno scenario simile a quello descritto nel libro Gomorra. Tutto era partito da una segnalazione di una guardia ecologica volontaria insospettita da movimenti strani in un'area agricola tra Desio e Seregno. Gli investigatori trovarono un accumulo di 160.000 metri cubi di rifiuti pericolosi. Secondo i carabinieri, le famiglie calabrese hanno sviluppato nel tempo un pregnante controllo dell'intero territorio. Si legge nel rapporto degli inquirenti che la famiglia Iamonte Moscato, Insistente sul territorio sin dai primi anni 70, ha visto aumentare i propri interessi nel campo politico, commerciale ed immobiliare fino a giungere all'apice nell'asso temporale compreso tra il settembre 1988 ed il marzo 1991, allora quando il capo Cosca Natale Iamonte ebbe a scontare gli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza proprio nel territorio desiano. Allo stato attuale, pur mantenendo l'affiliazione ad una Cosca perdente, la famiglia Moscato continua a costituire un elemento di riferimento puntuale per gli interessi illeciti in Brianza. Gli aneddoti, come l'ufficio tecnico del comune di Desio andato a fuoco all'inizio degli anni 90, sono infiniti. Ecco, comunque a Desio non se ne parla non più di tanto. La campagna elettorale, anche qui piuttosto tiepida, si è occupata del raddoppio dell'inceneritore, fonte di energia ma anche di forti preoccupazioni per i cittadini di Desio e delle città confinanti. Altri due i temi a scaldare il dibattito. L'ennesimo centro commerciale di questa parte di Brianza è la surreale vicenda dell'ex comandante dei vigili urbani. Per quanto riguarda il nuovo santuario dello shopping, Confcommercio ha usato la clava contro l'amministrazione senza piano commerciale e contro i vertici del gruppo leader di supermercati che nei giorni scorsi sono finiti al centro delle indagini della Guardia di Finanza. La storia dell'ex capo di Ghisa di Desio è ancora più incredibile. Per una svista degli uffici comunali, Giuseppe Zuccalà ha svolto per anni il ruolo di comandante, pur non avendone la qualifica, e ha chiesto e ottenuto un risarcimento di 260 mila euro, pagati dunque dalla comunità desiana. I candidati di Desio sono sei Giampiero Mariani, sostenuto da PDL, Lega Udc, Indipendenti, Desio 2000 Roberto Corti, candidato di PD, Alternativa Verde, Sinistra e Ambiente, e Desio Viva Francesco Sicurello, Italia dei Valori Paolo Di Carlo, Desio 5 Stelle Claudio Fiore, Lombardia Autonoma